dunque il coraggio della responsabilità. La pandemia ci ha dimostrato quanto vi sia bisogno di responsabilità nell'opera dei medici, in tutto il personale sanitario, nel lavoro di chi svolge manzioni sociali, nell'impegno di chi opera nel tessuto produttivo e economico, nell'azione dei governi e degli organismi internazionali, ma anche nei comportamenti di ciascuno di noi. La responsabilità comincia da noi. Vaccinarsi tra i tanti esempi possibili è un dovere, non in obbedienza a un principio astratto, ma perché nasce dalla realtà concreta, che dimostra che il vaccino è lo strumento più efficace di cui disponiamo per difenderci e per tutelare i più nervoli e i più esposti a gravi pericoli.